Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, scuola del Cerchio Firenze 77, riunione del 28 maggio 1969, 23esimo anniversario della prima seduta, avvenuta il 28 maggio 1946, a cura di VB, Dali. Noi non diamo alcuna importanza alle ricorrenze, alle celebrazioni degli uomini. È vero, figli? In genere l'umano tiene molto a questo genere di cose, tanto che gli suona molto strano, ad esempio, che una creatura possa morire mentre torna da un pellegrinaggio mistico. Oppure che il giorno di una festa religiosa il tempo non sia stato favorevole. L'uomo pensa che tutti gli avvenimenti che riguardano l'ordine più alto della natura, le cose dello spirito, siano condotti secondo una regia sovrannaturale che in qualche modo faccia sì che niente turbi lo svolgimento di questi eventi straordinari. Suona strano che, ad esempio, durante una festa religiosa, vi sia qualcosa o qualcuno che turbi lo svolgersi di questo evento, come se alcune cose fossero di Dio e altre del demonio. Come se, figli cari, non tutto rientrasse nel quadro della natura, non tutto fosse naturale. E allora ciò che per l'uomo, a suo giudizio e suo criterio, non è, non rientra nel quadro della natura, non deve in qualche modo appartenere ad uno ordinato svolgimento. Deve sempre, in ogni caso, essere messo immediatamente al bando, annientato, distrutto dall'ente supremo. Ebbene, figli cari, ora che voi avete questo quadro generale, ora che voi vedete come voi stessi questa sera avete ammesso la vita cosmica da un diverso punto di vista, voi che avete ben compreso che cosa significa emanazione e riassorbimento, che sono quindi eventi individuali, in quanto sussistono per colui che li vive, cioè soggettivamente, ma non sussistono oggettivamente, voi figli, che questo avete compreso? Ebbene, con facilità comprenderete anche che niente può essere al di fuori del quadro naturale. Niente può essere quindi definito come appartenente al regno di Satana, nel senso che non è voluto da Dio che è reietto o reprobo, ma tutto ha una precisa e ben valida ragione di esistenza. Arrivare a comprendere e ad ammettere questo, figli, significa raggiungere una libertà che al primo momento non si riesce bene a valutare nella portata. E la si valuta man mano che questo capire, capire questa verità, si trasforma in comprensione, man mano che questa verità viene assimilata. Continua.